Cari amici, vedo che anche voi siete rimasti seduti dalla Chiesa Palmariana e dal Papa Pietro III che dice le stesse cose di Viganò. Il podcast di un giorno fa ha realizzato 15.772 visualizzazioni. Vi ringrazio, mi fa molto piacere. Effettivamente la Chiesa Palmariana è una realtà molto affascinante, veramente mi interessa parecchio. Ed è una Chiesa antipapale a tutti gli effetti, forse la più importante e la più recente delle Chiese antipapali, scismatiche e governate da un antipapa. Il caso di questa Chiesa antipapale ci dà un lume molto significativo sul discorso della validità della Messa una cum antipapa Francisco. Ho ricevuto un messaggio da un sacerdote, di cui non fare il nome, con il quale dibattiamo da diversi mesi sulla questione della validità della Messa una cum Papa Francisco. Validità o licetà? Io gli ho detto comunque, guardi che comunque è illecita. Quindi meglio sarebbe per lei che fosse invalida, perché se fosse valida sarebbe una specie di... sarebbe un sacrilegio, sarebbe un vero e proprio sacrilegio, sarebbe fomite di peccato, come dice Santo Maso d'Aguino. Almeno se è invalida è acqua fresca e buonanotte. No, se è valida è peggio. Se è valida è peggio, perché è una Messa valida, illecita, celebrata consapevolmente col nemico della Chiesa cattolica, figuratevi voi i frutti spirituali che vi possa fornire. Naturalmente a chi è consapevole del fatto che Bergoglio non è il Papa, per tutti gli altri vale il supplet ecclesia. Allora, c'è un brutto vizio, che è quello di volersi mettere al posto della Chiesa cattolica per definire in quali chiese scismatiche i sacramenti sono validi. Perché appunto, siccome nell'Ecclesia d'Eucharistia si dice che la Messa è valida nella Chiesa cattolica, dove si celebra in unione con il Papa e con la Chiesa, e nelle messe delle Chiese ortodosse, dove però il sacramento è valido ma illecito, tranne le rare occasioni di emergenza, allora in tutte le altre Chiese scismatiche dobbiamo considerare valida la Messa, ma questo non sta scritto da nessuna parte, tant'è che in un'altra Chiesa scismatica, quella anglicana, la Messa non è valida neanche per niente. Non c'è la transustanziazione nella Messa anglicana, capite? Ma questo sacerdote mi dice, sì è vero, lei ha ragione, la Messa anglicana è invalida, però perché? Perché è venuta a meno la formula di consagrazione. Infatti, dopo una prima fase, dopo l'atto di supremazia del 1532, con cui si dichiarava Enrico VIII il capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, lì si era creato uno scisma, la Messa continuava a essere valida ma illecita. Poi però cambiano anche la formula di consagrazione. Arriva Elisabetta I che cambia anche la formula di consagrazione. E quindi viene a meno uno dei quattro elementi che rendono valida la Messa. Allora, non è che voi avete il potere di decidere in quali Chiese scismatiche la Messa è valida o meno. Perché? Perché il canone 841 ci ricorda che spetta alla suprema autorità della Chiesa a provare e definire i requisiti per la validità dei sacramenti e la loro liceità, poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito. Quindi è la Chiesa che decide dove sono validi, per quanto illeciti, i sacramenti. Nelle Chiese ortodosse sono validi ma illeciti. Nelle Chiese anglicane sono anche invalidi. Allora, vediamo che cosa si dice dalla Chiesa palmariana. Questo è molto importante. Perché c'è un documento del 12 marzo 1983 della Dottrina per la Fede, all'epoca prefetto cardinale Ratzinger, notificazione con la quale si dichiarano di nuovo le pene canoniche in corse all'arcivesco Pier Martin Gondin-Tuc, cioè colui che ha dato vita poi ai viscovi pseudotali palmariani. Al punto 3 leggiamo. Infine, per quanto riguarda coloro che hanno già ricevuto l'ordinazione in questo modo illegittimo o che forse stanno per riceverla da costoro, che che ne sia della validità dell'ordine, la Chiesa non riconosce, ne riconoscerà la loro ordinazione e li ritiene a tutti gli effetti giuridici in quello stato che ognuno aveva in antecedenza, ferme restando le sopra ricordate sanzioni penali fino alla resipiscenza. Che vuol dire? Che che ne sia della validità dell'ordine, cioè non ci importa niente della validità dell'ordine, la Chiesa non riconosce le ordinazioni, non riconosce gli ordinati. Capite? Quindi le ritiene a tutti gli effetti giuridici in quello stato che ognuno aveva in antecedenza, cioè laici. Cioè laici. Allora, secondo voi, un laico può amministrare validamente un sacramento? No, perché viene meno l'ordinazione. I palmariani non hanno cambiato la formula di consacrazione, ma fin da subito la dottrina per la fede non ha riconosciuto le loro ordinazioni. Che che ne sia della validità dell'ordine. Non ce ne importa niente dei discorsi sulla validità dell'ordine. Noi non li riconosciamo. Per noi, voi, i vostri vescovi, i vostri preti, sono dei laici. Sono dei laici, come gli anglicani. Quindi, come gli anglicani, la vostra messa non è valida. Non avviene la transustanziazione. Ora, la Chiesa antipapale palmariana, poverina, si è scismata da Roma, si è andata per fatti suoi a Palmar de Troia, si è fatta quella basilica, tutta barocca, eccetera, eccetera. Ma non disturba la Chiesa cattolica. Allora, se la congregazione della fede ha dichiarato invalidi i sacramenti della messa palmariana, che, poverina, è una Chiesa antipapale che si fa gli affaracci suoi in Spagna e Andalusia, figuratevi quanto può considerare validi i sacramenti della Chiesa antipapale bergogliana che ha usurpato il trono di Pietro, che ha occupato la Chiesa cattolica, che ha cacciato, impedito il vero Papa Benedetto XVI. Vi rendete conto? Ripeto. La Chiesa cattolica ha definito invalidi i sacramenti della Chiesa antipapale palmariana, che è inoffensiva per la Chiesa cattolica, perché se ne sta per conto suo. La Chiesa antipapale bergogliana è una Chiesa usurpatrice, ha preso il posto di Pietro, ha cacciato il Papa. Quindi, se già gli inoffensivi e innocui palmariani hanno i sacramenti invalidi, secondo voi la Chiesa usurpatrice bergogliana, che ha impedito il vero Papa, potrà mai amministrare sacramenti validi? Ecco, diciamo, questo è un principio generale, ma, ripeto, secondo il canone 841, spetta alla Chiesa cattolica a definire in quali chiese scismatiche i sacramenti possano essere considerati validi. Se tanto mi dà tanto, se la Chiesa palmariana mi dà tanto, ben difficilmente posso ritenere che siano validi i sacramenti della Chiesa antipapale bergogliana, che a Pietro ha fatto le scarpe. In ogni caso, nell'Ecclesia d'Eucaristia non c'è scritto che la Messa è valida in tutte le chiese scismatiche, no, è valida solo nella Chiesa cattolica e nelle Chiese ortodosse, che hanno un legame sacramentale non ecclesiale, ma oggettivamente richiamano un'unione con Pietro. Perché? Perché loro si rifanno a tutti gli apostoli. Ripeto, serve un pronunciamento della Chiesa cattolica per definire se la Messa un'acum antipapa Francisco, per chi sa che lui non è il Papa, sia anche valida, oltre a essere sicuramente illecita, sicuramente peccaminosa. Perché dice Sant'Ommaso che pecca chi va alla Messa degli eretici e degli scismatici. Se la Messa non è in comunione con Pietro è scismatica. Si commette peccato, per chi lo sa, ovviamente. Quindi il discorso avanzato per primo da Don Minutella sull'invalidità della Messa una cumpapa Francisco è perfettamente coerente, anche se manca un pronunciamento definitivo della Chiesa cattolica, che è l'unica che può dare una sentenza conclusiva. In ogni caso, vedete, vi conviene sperare che la Messa un'acum antipapa Francisco sia invalida. Vi conviene sperarlo, perché niente niente fosse valida e voi andate apposta, scientemente, alla Messa un'acum antipapa Francisco, e i frutti spirituali diventano al negativo, secondo me. Capite? Se Gesù Cristo ha voluto alla Chiesa una santa cattolica apostolica col successore di Pietro e voi invece gli fate dispetto, andate alla Messa in unione con l'antipapa che ha cacciato Pietro, che ha impedito Pietro, non credo che Gesù sia molto contento. Quindi, cercate sacramenti che non nominino Papa Francesco. Questo deve essere l'imperativo. Ho visto un video risibile di Don Giorgio Ghio su Tempi di Maria, mi pare che si chiami il canale, hanno chiuso i commenti. Hanno chiuso i commenti, forse perché sono stati subissati subito da riscontri non esattamente positivi. Ecco, quelli che tolgono i commenti insomma, diciamo, si presentano da soli. C'è Codice Runner che ha eliminato dei commenti assolutamente corretti, per quanto taglienti. Li ho pubblicati su Twitter, li hanno eliminati perché che sono offensivi. No, non è che sono offensivi, sono molto critici. Ma non è che sono offensivi, non è che ti hanno detto ah, tu sei un cretino, sei un imbecilo, come dicono a me. Come dicono a me. Ecco, per favore, Codice Runner, cari runneriani, smettiamola di fare le signorine con questa cosa. Ah, Cionci ha detto che ci crocifige e quindi noi non rispondiamo alle sue domande. Perché è ridicolo? Perché io vi ho detto che vi crocifiggerò alle vostre affermazioni, no? Senso lato. Vi inchioderò a quello che avete detto. Non è che sto... State tranquilli. Cionci non vi fa del male. Cionci è un non violento. State tranquilli. Non è che vi viene a prendere a casa per mettervi davvero i chiodini. Era un modo di dire, una metafora, per dire che vi inchioderò alle vostre affermazioni. Ecco, quindi non fate le signorine, per favore, perché se vi faccio vedere la lista degli insulti che ha preso il sottoscritto, vi vengono i capelli bianchi. D'accordo? Perché se voi aveste subito un decimo degli attacchi che ho subito io, già stareste in cura dall'analista da diverso tempo. Sperando di aver chiarito, sperando che vi abbia interessato questa notificazione che vi pongo in discrezione, vi mando un caro saluto e grazie a tutti quelli che hanno voluto sostenere questo canale. Ci vediamo il 21 a Iesi.